unicredit analisi mensile luglio 2020 allora anche questo titolo come banco bpm insomma ne ha vissuto un po di tutti i colori grafico che se dovessimo farlo partire dal 2000 insomma sarebbe un po strano da verificare analizzare insomma ha avuto molte 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 vicissitudini quindi direi di prendere uno storico abbastanza importante ma diciamo contestuale a quello che poi è insomma l'andamento del titolo progressivamente negli anni dal 2009 in poi possiamo già avere un'idea reale sul sullo stato del titolo attuale abbiamo diversi elementi da considerare dal punto di vista grafico e andiamo appunto a sottolinearli allora dopo la discesa del 2007 2008 2009 abbiamo subito una ripresa la candela di marzo 2009 compra ai minimi del di febbraio e il prezzo va a praticamente a toccare quelli che poi saranno da lì in avanti i massimi che chiaramente il titolo non vedrà non vedrà più dal 2009 diciamo ottobre in poi di nuovo inesorabilmente al ribasso e arriviamo su questa zona quest'area che potremmo definire il pavimento da cui poi il prezzo è sempre un po ripartito possiamo identificare tutta quest'area qua ok esattamente e vedete come appunto il titolo in questo momento si possiamo anche alzarci un goccio esatto sì più o meno quest'area qua vedete come poi il prezzo in questo momento vedete ad esempio nella la prima volta nel 2012 area 8 euro e 50 e risale diciamo risale con un buon trend questa area di minimi venduti vedete come quest'area di minimi venduti qua diciamo la candela di agosto 2011 che vende i minimi di luglio 2011 questa candela rappresenti un tetto per il ritorno del 2014 2015 guardate anche come guardate anche proprio dove si va a fermare guardate vi faccio notare una cosa guardate qua la candela che vende agosto che vende luglio guardate poi la candela di ottobre quindi due tre quattro mesi dopo che prova a salire e si va a fermare proprio si va a picchiare proprio sui minimi venduti precedenti che abbiamo appena citato quindi questo livello importante e anche qui addirittura quasi non ci arriva il prezzo viene sempre respinto da quest'area di 35 euro troviamo pavimento intorno a 8,60 8,70 sia un po la prima volta nel 2012 più basso nel 2016 e ora strecciamo un pochettino il titolo per vedere meglio i giorni nostri ora abbiamo avuto la candela come classica di marzo che ha venduto tutti i minimi precedenti quindi ha rotto tutti i minimi precedenti generando nuovi minimi assoluti addirittura anche la candela di maggio scende ancora e questa poteva essere una buona operazione sicuramente proviamo ad andare a vederla perché questa poteva essere sicuramente una buona operazione target di questa operazione possono essere vediamo subito quale poteva essere l'operazione quindi eccoci qua eccoci qua allora candela di maggio che compra i minimi di marzo ok stop direi anche piccolo 5,68 e target che potrebbe essere o su questi minimi qui che potrebbero già essere un target del 45% quindi enorme quindi insomma qua guardate come praticamente l'ha quasi toccato al tick guardate che poi può essere insomma quest'area qui oppure si potrebbe aspettare cosa che io trovo più difficile andare fino a questi minimi qui in questo momento il periodo è molto instabile ci potrebbero essere dei ritracciamenti dovuti anche agli indici americani sui massimi quindi proverei ad avere ambizioni un po' più minori comunque diciamo che questa poteva essere ad esempio un'operazione sensata e adesso quello che io direi è di stare molto attenti perché chiaramente già qui con la candela di giugno 2020 il prezzo è stato respinto subito nella parte bassa di questi swing quindi nessuna candela dei mesi precedenti ha chiuso sopra i massimi del mese precedente questa sì ma di talmente poco che non lo so se considererei questa candela come candela che chiude sui massimi che compra massimi non lo direi proprio e adesso abbiamo una candela verde che sta cercando di recuperare ma anche qui comincia a tornare indietro siamo al 13 di luglio quindi insomma vediamo come si sviluppa il mese sicuramente interessante potrebbe essere andare per un'operazione di breve andare a comprare questi minimi vediamo che cosa ci dirà il tempo sicuramente un titolo non intonato benissimo non intonato benissimo proviamo a vedere sul giornaliero come si sviluppa la situazione ecco che vedete appunto quello che abbiamo visto questi minimi qua insomma rotti poi al ribasso questa è l'operazione che abbiamo poi diciamo mostrato noi ecco vedete questo poteva essere sicuramente un target vedete come sul giornaliero ad esempio si riescono a vedere ad esempio meglio certe situazioni vedete avendo visto questo minimo questo massimo scusate il target poteva essere sicuramente questo minimo questo massimo vedete il titolo non riesce neanche andare a ricoprire ancora questo gap perché viene respinto prima però vedete come alle volte spostarsi su un time frame più basso ci aiuti a capire a definire meglio i target se io non ho sul mensile un'area ben precisa dove pormi un target spostandomi su un time frame più basso si può vedere magari ci possono essere graficamente degli swing o dei livelli importanti visivamente e graficamente che ci possono aiutare infatti questo massimo precedente è stato assolutamente raggiunto poi il prezzo è tornato indietro adesso vedete che un po' in ordine sparso il titolo genera giornate positive e giornate negative quindi prima vediamo come si svilupperà nei prossimi giorni sarebbe interessante intanto vedere il prezzo comprare questo massimo di swing a quel punto avremmo un massimo qui un massimo più alto minimo più alto e avremo un massimo più alto attenzione perché potrebbe esserci soltanto una spinta per andare a ricoprire questo gap e poi la prosecuzione a ribasso vediamo come si sviluppa nei prossimi giorni e durante il mese prima indicazione è che venga comprato questo massimo diverso invece è se vengono venduti ancora questi minimi allora il prezzo ci si potrebbe aspettare che vada ancora a riprendere questi minimi assoluti per romperli e provare a generare quindi un minimo più basso da cui magari poter anche temporaneamente risalire vediamo e cerchiamo di capire come svilupperà il prezzo e la propria dinamica grazie grazie